La Corte d'Appello di Messina, Presidente Bruno Sagone, Allatere, Maria Teresa Rena e Daria Orlando ha confermato in toto la sentenza di connanna a carico di un 50enne residente in un comune tirrenico per maltrattamenti in famiglia. L'uomo lo scorso maggio era stato condannato dal Tribunale di Patti a 4 anni di reclusione per maltrattamenti nei confronti della ex moglie e dei figli minori e a risarcire il danno alla vittima ed era stato interdetto per 8 anni dalla potestà genitoriale e per 5 dai pubblici uffici. La vittima si era costituita parte civile al processo con l'avvocato Antonella Marchese. L'imputato, assistito dal suo legale di fiducia, aveva proposto ricorso in appello contestando le gravi accuse contro di lui. Secondo quanto emerso in primo grado, l'uomo avrebbe vessato la moglie con la sua gelosia morbosa, le avrebbe dimostrato di conoscere i suoi spostamenti, sottoponendola inoltre a maltrattamenti fisici e psicologici ed ingiuriandola. La donna avrebbe anche tentato di separarsi, trovando nel marito fermo a posizione e vissuto in un clima di prevaricazione. Si sarebbe persino rivolta alle forze dell'ordine in più occasioni, ma al momento di formalizzare la denuncia, per paura delle reazioni del marito, avrebbe rinunciato. La Corte Messinese ha confermato integralmente la sentenza di primo grado nei giorni scorsi, connannando l'uomo anche al pagamento delle spese processuali e alla refusione di quelle sostenute dalla parte civile.